Sorricelli, tempo di bilanci di fine anno per la questura di fermo, un anno intenso, tante attività, l'impegno in particolare, come ha sottolineato, nella prevenzione. Sì, lo dicevo poc'anzi, è stato un anno impegnativo, un anno complesso, ma anche soddisfacente per la questura di fermo, che fin da quando è stata costituita ha incentrato tutta la sua attività sulla prevenzione. Noi ci crediamo molto in questo concetto. Prevenzione significa implementare i servizi sul territorio, soprattutto sulla costa fermana. E lo continueremo a fare anche per il futuro, perché garantire la serenità e la quotidianità alla cittadinanza è la nostra missione. E le zone principalmente attenzionate, ha parlato di Lido Triarchi e della costa, zone che richiedono e meritano un'attenzione particolare, no? Assolutamente. Quella zona, Lido Triarchi, ma tutta la costa fermana è da noi attenzionata da tempo. Noi facciamo settimanalmente dei servizi straordinari in quel territorio, con risultati anche molto positivi. C'è ancora molto da fare, lo dico con sincerità, ma l'obiettivo è quello, ripeto, di permettere a quella comunità di vivere in modo sereno la propria quotidianità. E per finire, un quadro generale di diminuzione dei reati con una sola voce in crescita, come ha accennato, che è quello delle truffe online. Sì, nell'ambito di un risultato soddisfacente in materia di reati, c'è solo da evidenziare questo aumento nella nostra provincia dei reati per le frodi informatiche. Mi permetto di raccomandare, o meglio di consigliare alla cittadinanza di essere un po' più attenta in questa materia, per evitare di subire dei danni patrimoniali e anche psicologici.